Musica Oggi abbiamo valorizzato questo corto di Gabriele Muccino, una tua impressione? Beh, credo che sia proprio un progetto interessante soprattutto perché riesce a promuovere cinema e turismo, perché credo che sia la valorizzazione di tutto ciò che è proprio la qualità di una terra che forse non è mai abbastanza conosciuta. Quindi credo che questa sia proprio anche una formula giusta per valorizzare ancora di più una terra che non ne avrebbe bisogno ma farla vedere così in Italia e magari anche all'estero è anche la risposta a un'intuizione molto felice di Iole Santelli che abbiamo anche ricordato presentando questo film. Tu hai visto questo corto, la Presidente Iole Santelli ci teneva a dare l'immagine di una nuova Calabria, una Calabria non più in bianco e nero ma piena di colori. Una battuta su questo? È vero, ha detto proprio così presentandolo al debutto quando è stato fatto vedere proprio in Calabria e oggi abbiamo seguito proprio questa linea anche recuperando questo suo desiderio perché da una sua intuizione è nata poi un'immagine che la Calabria ha e aveva ma che forse Muccino ha saputo valorizzare al meglio. È stato un momento molto emozionante e credo anche di grande serenità e grande affetto per una donna speciale. Grazie a tutti.